vai il dosso a manetta guarda che puoi girare guarda mamma quanto mi chiuso un bacio a piede oh fai laggiù la discesa giù di là che è un po' di nuovo vai 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 adesso qua giù a fuoco tira somaro lascio la macchina mini gokart ci siamo di brutto tocchiamo marcolino mentre ha la guida del suo gokart tirato da marco 3 della corda attenzione addosso l'ho giù dal buco penso che sia una cartella comunque ho anche giù la puzzolo qua qua vai 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 la macchina la macchina la macchina la macchina con cui spinge marco dread e dietro marco che va addirittura più veloce oh è giù dal buco